ciao ragazzi una domanda che molti di voi mi fanno quando mi incontrano a degli eventi sportivi e delle gran fondo ma piuttosto che a maratone o altri eventi anche di triathlon o ironman è spesso gli ader quanti prodotti quanti gel quante barrette devo mangiare prima o comunque durante la mia competizione e io rispondo molto spesso come faccio anche con i miei atleti rispondo in grammi ora o grammi addirittura anche a volte minuto perché perché in realtà il fattore oggi molto importante che è legato alla nostra performance è soprattutto il fattore limitante dell'assorbimento intestinale quindi oggi noi nutrizionisti sul campo e nutrizionisti che stanno molto in mezzo allo sport lo praticano ma soprattutto stanno con molti atleti di vario livello è quello di cercare di fare in modo non solo allenare in generale attraverso una buona alimentazione nei giorni normali ma soprattutto mettere sotto diciamo allenamento il nostro apparato digerente che si può fare in varie maniere a volte anche molto divertenti quindi è una cosa che di solito appunto noi nutrizionisti consigliamo è un certo quantitativo di grammi per ora di carboidrati perché voi sapete che i carboidrati durante l'attività fisica sono il carburante principale e la fonte di energia più importante che noi abbiamo a disposizione allora molto spesso visto che la risposta a queste domande la do sempre io ho chiesto a un mio amico ma soprattutto anche un mio grande maestro ed esperto di nutrizione sportiva come asker che è oltre a essere un buon sportivo ma soprattutto è uno dei massimi esperti in nutrizione sport a livello europeo quindi risponderà lui alla domanda che voi molto spesso fate a me e alla quale io rispondo però lui ci spiegherà meglio e approfondirà meglio l'argomento di carboidrati durante l'attività fisica in una performance di lunga durata quanti grammi di carboidrati per ora io dovrei assumere o anche uno sportivo dovrebbe assumere durante una competizione questo dipendente molto suonamente tutto ciò che sei appena quindi credo 30 grammi di carboidrati per ora è probabilmente ok per la maggioranza 60 grammi di carboidrati per ora è già molto per la gente ma è abbastanza sicuro a volte la ricominazione è ancora più alta come 90 grammi di carboidrati per ora è dove ci sono come raggiunto problemi se non hanno tradito o non hanno usato carboidrati a questo punto di rinforzare quindi io vorrei sicuramente che hai praticato e che le persone dovrebbero praticare questo in training ma non si tratta di rinforzare l'argomento che non prenderà nessun carboidrati ma poi poi si vengono a una rinforzata e poi si vengono a una rinforzata e si vengono e si vengono a una rinforzata e si vengono a una rinforzata e si vengono a un barzata e si vengono molto carboidrati durante la rinforzata questo è ovviamente una rinforzata per il disastro quindi la rinforzata che è sicuramente dipendendo a una rinforzata il primo e l'importante è quello che si vengono a se ti vengono a 60 grammi di training? quindi 60 grammi per ora è un problema il secondo che è importante è il tuo diet se ti vengono a una rinforzata che contiene molto carboidrati quindi 60 grammi per ora è molto molto e io vengono a una rinforzata o se si vengono a una rinforzata e si vengono a una rinforzata e si vengono a una rinforzata quindi 60 grammi per ora è anche molto ma se sei un'athlete che si vengono 4-5 giorni molte volte a week un'athlete che si vengono molto carboidrati durante la rinforzata come avete sentito dal mio amico Asker sicuramente oggi io sono fermamente convinto e lo sostengo con tutti i miei atleti professionisti non solo legati al mondo dello sport ma anche in sport misti e anche in sport di squadra che seguo che la componente durante la performance sia davvero una componente molto importante e sulla quale noi possiamo allenare il nostro corpo ma soprattutto l'intestino per rendere una performance adeguata ma soprattutto più alta oggi l'alimentazione sono sempre più convinto che sia fondamentale a mio modo di vedere a volte anche più importante per un fattore molto facile e spiegabile biochimico a volte diventa anche più importante dell'allenamento perché oggi la cosa più importante è allenare il nostro intestino quindi avete sentito le parole di Asker oggi è molto importante lavorare su grammi ora e sarà anche importante lo sviluppo in futuro di alcune metodologie un po' innovative che stiamo portando avanti sul campo con altri colleghi e ricercatori e a breve dovremmo avere anche dei dati scientifici più autorevoli che ci possono anche dare spiegazioni scientifiche in merito a quello che noi oggi stiamo sperimentando sul campo se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici lasciami i commenti e seguimi sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram ciao e al prossimo video grazie a tutti